Albano, sapete chi è tra i tanti suo figlio preferito? E padre di ben sei figli, tra cui Lenia, scomparsa nel 1993, e con tutti mantiene un ottimo rapporto. Ma siamo sicuri che Albano non abbia qualche preferenza? E' uno dei cantanti più apprezzati del nostro paese. Albano Carrisi ha una carriera pluridecennale da far invidia, con numerosi riconoscimenti e singoli entrati nell'immaginario collettivo. A far parlare, però, non è solo la sua musica, ma anche la travagliata vita sentimentale, conteso, tra le due donne fondamentali della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso. La prima la conosce quando lei è ancora giovanissima sul set di un musicarello, genere di film molto popolare all'epoca e i due fanno coppia fissa da allora, mettendo al mondo quattro figli e formando un binomio artistico tra i più famosi non solo a livello nazionale. Poi, nel 1993, la tragedia. La primogenita Ilenia scompare e qualcosa si rompe tra di loro, che nel 1999 decidono di separarsi, dopo 30 anni di unione. Nello stesso anno conosce colei che riuscirà a fargli battere nuovamente il cuore, Loredana Lecciso, giornalista sua conterranea. Dalla loro unione nascono due bimbi, Jasmine e Albano Junior, detto Bido. La relazione, però, non è delle più serene. Carrie si sopporta malvolentieri l'intrusione nel mondo dello spettacolo della donna e nel 2005 lei arriva al punto di lasciarlo in diretta mentre lui è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi, minacciando di portarsi via i bambini. Poi tutto sembra placarsi e attualmente i due dichiarano di essere più uniti che mai. Una situazione familiare complicata, ma che l'artista di Cellino San Marco pare gestire ottimamente, districandosi con abilità tra tutti i suoi ragazzi. Siamo sicuri però, che, sotto sotto, anche lui non abbia il suo pupillo. E quanto una foto ha fatto pensare a molti. Albano e lo scatto incriminato, è lui il suo preferito? Nella foto pubblicata proprio dal diretto interessato lo si vede portare in spalla uno dei suoi figli, l'occasione è speciale, e merita di essere festeggiata con tutti gli onori. Gli altri figli di Albano non avevano diritto ad una foto. Si domanda un fan con una certa vehemenza, forse viaggiando troppo con il pensiero, visto quanto scrive nella didascalia l'artista pugliese. Diciottesimo compleanno di Bido, da oggi uomo, si legge infatti. Albano vuole così festeggiare i 18 anni del suo ultimo genito. Nessuna preferenza quindi, visto che recentemente Carrisi ha dichiarato di aver già dato parte delle quote della tenuta pugliese a tutti i figli indistintamente, in parti uguali. Un amore incondizionato e senza differenze. Un amore incondizionato e senza differenze.